Ahimè ogni giorno un piccolo scempio troviamo. Questa meraviglia viene un po' deturpata dalla scelta del comune che ha scelto questa piazza storica per depositare i bidoni della spazzatura. E questo sinceramente ci riempie il cuore di dolore e di puzza soprattutto. Puzza, rifiuti di tutti i tipi abbandonati in un contesto storico di assoluta bellezza. Piazzetta Guadagnin nel cuore del centro di Bassano si mostra come discarica a cielo aperto che costringe persino i negozianti a tenere chiuse le porte. E' questa la denuncia delle responsabili del negozio Peppelù ormai esasperate da tale degrado. Ci sono i bidoni del vetro e dell'umido ma quotidianamente vengono abbandonati cartoni e secco. Poi ritirano e il bidone viene abbandonato davanti all'ingresso del mio negozio. Una situazione inaccettabile dicono a lato della suggestiva scalinata cinquecentesca attrazione per i turisti in visita alla città. Rifiuti a terra che restano lì per giorni fuori dagli appositi bidoni. Un sistema di raccolta che, sottolinano i residenti, evidentemente non funziona. Mettici anche l'inciviltà della gente e il gioco è fatto. E se ci aggiungi il caldo di questi giorni è facile immaginare anche il cattivo odore. Non c'è proprio il controllo, quindi questa è inciviltà. Ma il comune non ha neanche il controllo della situazione. Quotidianamente ci sono gruppi di turisti che vengono con la guida, ammirano l'architettura della piazzetta e poi l'occhio comunque cade sull'abbandono dei rifiuti. Io mi vergogno della situazione perché pulizia e ordine è una regola che non bisogna sgarrare in una città come Bassano o in qualsiasi cittadina civile.